Allora, questa non è Telecom, non è TC3, ma è Sky, il posto partita, il posto partita, certo? Sì, il posto partita, buongiorno, mi stanno facendo interviste i compagni, i compagni mi stanno facendo interviste, i telefonini tutti appicciati, niente, voi avete mangiato, noi ci stanno uccidendo, tutti stanno mangiando un alore, le stacciono pure da un nidio, la braciola, e ci hanno mangiato al barbatani, l'annoccio uccidendo, un bambu, un bambu, un bambu ci hanno mangiato un bambu, e ci hanno mangiato un bambu, No, vieni la mia mese a tavola, vado a stare a tavola. Questa partita, prima della partita, come dici? Questa non c'è l'intervista prima della partita, cosa ne è bello? Vado a stare a tavola. l'unico uomo che porterà un messaggio nel mio cuore Ale 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 tu sei! Ale 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 tu sei! Ale Ale Ale! Ale Ale tu sei! Un risultato, un risultato Un risultato vinceremo, vinceremo non vogliamo sapere niente Allo stadio, forza!